Ciao, da oggi volevo iniziare delle nuove biografie come quella di Zadid, Libeskin, Gheri o Rinkulas ma prima di iniziare a spiegare questi grandi architetti devo appunto spiegare l'architettura del costruttivista perché è lo stile architettonico che li accomuna un po' in tutto anche se indica declinazioni diverse appunto Zadid ha delle forme più morbidi, Libeskin più spigolose o Gheri è una via di mezzo e così via però sicuramente hanno negli anni Ottanta creato questo nuovo stile architettonico che è appunto l'architettura del costruttivista quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che escono dal razionalismo, quindi che ha contraddistinto tutto anche il modernismo dai primi del Novecento fino ancora tuttora, nel senso si intrecciano le due cose non è che finisce il modernismo o l'architettura razionalista per iniziare questa corrente ma ovviamente appunto si intrecciano però è la voglia di uscire dalle forme tradizionali e quindi proprio smontare ciò che è costruito, quindi costruito in maniera tradizionale a tal proposito cito una frase di Zadid che così va a sintetizzare molto meglio questo concetto quindi lei dice sono sempre stata interessata al concetto di frammentazione e all'idea di astrazione ed esplosione decostruendo le idee della ripetitività e della produzione di massa quindi cosa vuol dire? Appunto ha usato proprio il concetto di decostruire le idee, no? e anche di distruggere la ripetitività, la produzione di massa, proprio ciò che è convenzionale quindi ha riassunto in maniera perfetta secondo me questo concetto è nato, è un fenomeno appunto nato negli anni 80 specialmente nell'88 fu organizzata una mostra a New York diciamo quindi come potrebbe essere dato come punto di inizio nonostante i progetti ci fossero già precedenti ma si sono riuniti appunto con questa mostra dei progetti di Gary, Daniel Liebeskin, Rem Kulas, Peter Eisenman, Zadid, Bernard Schumi e lo studio Coop in Melblau sono tutti appunto architetti che hanno lavorato e collaborano tuttora su questo stile architettonico quindi che si basa proprio sulla... insomma è facile da riconoscere perché sono architetture molto spettacolari, molto belle insomma dipende dai punti di vista ma comunque interessanti da vedere e appunto danno all'occhio perché sono assolutamente non convenzionali quindi ricapitolando un attimo si basa proprio sulla disarticolare fare costruire frammenti, volumi deformati, tagli, asimmetrie appunto come ho detto ogni architetto poi la interpreta in maniera diversa però sicuramente distruggendo i canoni estetici tradizionali inoltre è possibile fare questo tipo di architettura grazie alle nuove tecnologie infatti sfruttano tutte le potenzialità della torsione, del piegamento dei nuovi materiali, delle nuove tecniche costruttive quindi c'è sicuramente sempre uno studio è un'applicazione di materiali e tecniche costruttive molto avanzati i materiali prevalentemente usati sono come strutture in acciaio che dà appunto la flessibilità di poter creare delle cose nuove o anche la plasticità del cemento armato che poi magari vengono ricoperti dal vetro o da materiali metallici come può essere lo zinco titanio per il museo del Guggenheim di Bilbao di Gheri vabbè ma non inizio a fare esempi perché ce ne sono attualmente molti e quindi a tal proposito rimarco proprio l'importanza delle nuove tecnologie a partire dalle tecniche costruttive dove viviamo i nuovi materiali ma è anche importante sottolineare l'utilizzo del computer quindi per poter progettare gestire prima di costruire quindi gestire in fase di progettazione quindi appunto modellando già tridimensionalmente il progetto per poter capire come poter realizzare delle architetture così complesse quindi è un tipo di architettura che difficilmente si poteva fare anche avendone la fantasia in tempi passati perché ha bisogno proprio delle nuove della nuova tecnologia più o meno quindi penso di aver fatto una panoramica ciao alla prossima